Amici di Spazio Inter, bentrovati sul nostro canale. È stata una settimana ricca di emozioni in casa Inter, su tutte l'arrivo dell'ufficialità di Simone Inzaghi. Una notizia importante che dà il via alla nuova stagione erazzurra, stagione in cui l'Inter dovrà difendere lo scudetto conquistato con Antonio Conte. Il nuovo tecnico dell'Inter ha già visitato a piano gentile, è stato a colloquio con la dirigenza dopo la firma, è stato anche a cena con tutti i dirigenti e adesso si può iniziare a programmare sul serio la prossima stagione. Prossima stagione che partirà indubbiamente dal calcio a mercato e in questa settimana le notizie che si sono sosseguite sono state tantissime, su tutte quelle legate sul fronte esterni. Tante modifiche in arrivo sulle fasce dell'Inter. Hakimi potrebbe essere il sacrificato eccellente, nonostante la stagione superlativa dell'esterno marocchino dovrebbe essere lui a salutare per sanare il bilancio. Tanti club interessati a lui, su tutto il Paris Saint Germain che ha già fatto pervenire un'offerta all'Inter, anche se l'Inter ha fissato la richiesta, 80 milioni di euro. Sul laterale ci sono anche Chelsea e Arsenal, mentre osserva ancora interessato il Bayern Monaco. Si fanno già i primi nomi per i possibili sostituti sulla fascia destra, su tutti c'è Alessandro Florenzi che da tempo nel milino dell'Inter potrebbe davvero raggiungere Milano. Infatti non sarà riscattato dal Paris Saint Germain, il suo posto potrebbe essere preso proprio da Hakimi e difficilmente resterà a Roma. Le alternative al momento portano ai nomi di Marusic della Lazio, uno dei fedelissimi di Inzaghi nel suo periodo con i biancocelesti e poi ad Emerson Royal, appena tornato al Barcellona dopo l'esperienza al Betis. Nessuno di questi nomi convince pienamente la società nera azzurra, però molto probabilmente sarà da loro che uscirà il sostituto di Acer a Fakimi. Confermatissimo Matteo Darmian che è l'unico certo di restare dalla batteria degli esterni, mentre sulla sinistra potrebbero esserci tanti cambiamenti. Andrà via Ashley Young. Perisic potrebbe non rinnovare, ha il suo contratto in scadenza nel 2022 e ha numerosi interessi, soprattutto dalla Bundesliga. Di Marco potrebbe tornare all'Inter per restarci, sarà valutato il ritiro da Simone Inzaghi e sarà il tecnico a scegliere se confermarlo o meno. Il primo nome in entrata è quello di Emerson Palmieri e il nome più importante per l'Inter circola da mesi e potrebbe essere davvero lui il primo colpo per Simone Inzaghi. Il laterale italo-brasiliano ha appena vinto la Champions League con il Chelsea, ma non l'ha fatto da protagonista, infatti spesso è stato relegato in panchina sia con Lampard che con Tuchel. Per questo motivo potrebbe davvero lasciare Londra e l'Inter sembra al momento la squadra in pole position. Per sua stessa ammissione però Emerson al momento è concentrato sulla nazionale italiana, vuole far bene all'europeo e solo dopo parlerà del suo futuro. In Italia c'è già stato, ha vestito la maglia della Roma e del Palermo, ci è stato bene e gli piacerebbe tornare, come lui stesso ha detto, ma adesso ha un obiettivo più importante a cui pensare, vuole far bene all'europeo con la maglia dell'Italia. Lasceranno sicuramente Milano, Padelli e Kolarov, entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e diranno addio all'Inter. Per il portiere è sicuro il ritorno all'Udinese dove farà il secondo, mentre per il terzino ex Roma ancora non ha sciolto le riserve per il suo futuro. Ranocchi e D'Ambrosio sono le posizioni in bilico al momento nello sfogliatoio nero azzurro. Entrambi vorrebbero restare all'Inter ma dovranno accettare di ridursi l'ingaggio. L'ex capitano pare abbia deciso, insieme alla società, di ridurre il suo stipendio da un milione e mezzo a un milione a stagione pur di rimanere all'Inter. È un uomo su cui Inzaghi vuole contare per lo sfogliatoio, è un leader silenzioso e potrebbe quindi essere utile alla causa. Sempre per lo sfogliatoio Simone Inzaghi vorrebbe portare a Milano Stefan Radu. Il difensore rumeno è uno delle bandiere della Lazio ed è stato uno dei fedelissimi del tecnico nella sua esperienza bianco-celeste. Nonostante ciò potrebbe accettare una nuova avventura e quindi proseguire con Inzaghi con la maglia nero azzurra addosso per difendere lo scudetto insieme. Radu andrebbe a fare la riserva di bastoni come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Sarebbe un colpo importante, un colpo di esperienza per compattare un gruppo che già è molto coeso come dimostrato più volte in questa stagione. Nel frattempo si sta delineando il futuro di Antonio Conte. L'ex tecnico dell'Inter è in trattativa avanzata con il Tottenham e potrebbe accettare un contratto da 15 milioni a stagione. Sarebbe il secondo tecnico più pagato della Premier League dopo Pep Guardiola. Un ricco contratto, un ricco ingaggio per un tecnico che potrebbe rilanciare realmente le ambizioni degli Spurs. Infatti la dirigenza londinese è insoddisfatta dopo le ultime due stagioni di bassissimo livello, con Murigno prima e con Mason poi, e vorrebbe ritornare ai fastidi quando c'era Maurizio Pocettino, che ha addirittura condotto il Tottenham a giocarsi una finale di Champions League. Antonio Conte chiede garanzie alla squadra londinese, vuole colpi importanti sul mercato e vorrebbe anche la permanenza di Harry Kane, su cui però è forte il Manchester City e il centroavante inglese è fortemente tentato per giocare alla Champions League e per avere una grande occasione di vincere nella sua carriera. Conte potrebbe bussare anche alla porta dell'Inter, infatti nelle ultime ore si sono rincorse le voci che vorrebbero il tecnico ex-Inter interessato a tre calciatori nell'Azzurri, e sono Skriniar, Pericic e soprattutto Christian Eriksen. Dopo i tanti alti e bassi tra i due potrebbe esserci un clamoroso ricongiungimento con la maglia del Tottenham. Per il danese sarebbe un ritorno importante, anche se Inzaghi vorrebbe contare su di lui. Ci vorrebbe un'offerta importante per poterlo portare via dall'Inter. La maggior parte di queste questioni, soprattutto quelle legate al mercato, saranno comunque risolte dopo le competizioni che vivremo in questa estate di calcio. Infatti inizierà a breve l'Europeo e dovrebbe iniziare anche la Coppa America. Pur se nazionali importanti come Brasile, Argentina e Cile hanno chiesto alla Comebol di rimandare il torneo vista la difficile situazione legata al coronavirus che si sta vivendo in Sud America. Sono tanti i nerazzurri in giro per l'Europa e per il mondo. Roberto Mancini con la nazionale italiana porterà nella spedizione europea Bastoni e Barella. C'era anche Sensi tra i 26 convocati, ma il centrocampista nerazzurro ha dovuto alzare bandiera bianca. Infatti dopo aver recuperato dall'infortunio che ha vissuto nell'ultima giornata di campionato con la maglia dell'Inter, il centrocampista si è nuovamente infortunato di ritiro con la nazionale, quindi non potrà partecipare all'europeo. Mancini credeva in lui, lo ha aspettato e gli ha dato la possibilità di essere inserito tra i 26. Purtroppo questo nuovo infortunio per Sensi che non riesce a trovare continuità. Al suo posto il CT porterà Matteo Pessina dell'Atalanta. I prossimi saranno giorni importanti in casa Inter perché bisognerà chiudere il bilancio al 30 giugno con quasi 100 milioni di attivo. Bisognerà vedere quindi quale sarà il sacrificio che la società nerazzurra andrà a fare. Se sarà Kimi, su cui appunto è forte il Paris Saint Germain. Se sarà Lautaro Martinez, su cui Real Madrid e Atletico Madrid sono in pressing. Un sacrificio bisognerà farlo, salvo clamorose sorprese che potrebbero portare agli addi di altri calciatori. Nel frattempo sono in uscita João Mario e Nainggolan. Entrambi potrebbero essere riscattati da Sporting Lisbona e Cagliari. Quindi l'Inter inizia a piazzare gli esuberi e dagli esuberi potrebbe arrivare un tesoretto importante in vista del mercato. Successivamente sarà tempo di ritiro e di presentazioni. Sarà presentato Simone Inzaghi e poi l'Inter, dopo essersi ritrovato in ritiro appunto, volerà per gli Stati Uniti, dove a fine luglio affronterà una tournée internazionale. L'Inter scenderà in campo ad Orlando per la Florida Cup e affronterà Arsenal, Everton e Millionarios. Avversari internazionali per misurarsi, per vedere in azione la prima Inter di Simone Inzaghi. Vedremo come il tecnico proseguirà sulla scena di Antonio Conte e se apporterà delle modifiche sostanziali sia al sistema di gioco sia al modo di giocare. Siamo tutti in attesa, sono tutti curiosi di vedere cosa Simone Inzaghi porterà all'Inter dopo aver ben fatto sulla panchina della Lazio. Sarà quindi un'estate importante in casa Inter, ci saranno tanti movimenti non solo di mercato. Verrà presentata a breve la nuova maglia che porterà sul petto lo scudetto conquistato in questa stagione. Ci saranno tante novità e noi le racconteremo tutte sempre qui sul canale di Spazio Inter. Vi aspettiamo, un saluto da Peppe Cervellera. Grazie a tutti.